Ai punti penso la Cremonese abbia fatto qualcosa in più, io parlo come palla e gol, poi abbiamo incontrato una squadra forte che gioca bene, ci ha messo un po' in difficoltà dal punto di vista del palleggio, quindi è un risultato discreto, dobbiamo andare là, loro devono vincere, noi dobbiamo vincere perché non è che c'è il doppio pareggio e cambia qualcosa, quindi sarà un'altra partita aperta anche là e quindi sono parzialmente soddisfatto. L'analisi più giusta penso è una squadra molto forte che ha nella velocità dei suoi giocatori per caratteristica questa rapidità, questa manovra veloce ma per delle caratteristiche fisiche, però penso che dopo i primi 25 minuti dove loro hanno avuto più possesso palla la prima mezz'ora, le occasioni per vincere la partita sicuramente ai punti le ha meritato la Cremonese. Ora sai dopo la partita si analizza, io ho avuto tre calciatori con la febbre e non si sono allenati fino a giovedì, non è che poi uno con 40 di febbre la domenica possiamo sperare che vada come gli altri, ho avuto la mancanza di Loviso, penso per come abbiamo affrontato la settimana discretamente bene, ora abbiamo una settimana dove speriamo di poterci allenare un po' meglio, purtroppo non bisogna solo vedere la partita ma quello che ha preceduto la partita. Però una Cremonese che va a perdere Caracciolo che era in diffida. Munizione strana, non era addirittura fallo, non era neanche da munizione, però non importa, abbiamo alternative valide. Ora dobbiamo preparare una bella settimana fatta allenandoci tutti in modo minizuoso, perché sicuramente abbiamo preparato una partita in soli due giorni, perché non li ho avuti prima. Quindi